Si vanno ad attivare i muscoli dell'addome, anche in questo caso, ma dati dalla conoscenza di resistenza che c'è tra le gambe che spingiamo verso le mani e tra le mani che spingiamo verso le gambe. E infatti anche in questo caso si attivano rete dell'addome, addominali e anche nella zona dorsale andiamo comunque in tensione. Oltre ad attivare ovviamente i muscoli della gamba e le pressioni dell'anca che comunque spingono verso le mani e allo stesso modo delle mani. Come? Muscoli della hoscia.